Ciao a tutti da TheFaceGang, qui Taylor che vi parla, questo è un'altra top 5 fail di FIFA 2011 Un'altra, guarda! Arador e Tibu come a commentare! Continuate a mandarci i video, saluta! Filmati bene! Se avete usato la telecamera, filmateli decentemente! Non quella PS Vita! Al numero 5 c'è Tigro Tigi, guardate l'arbitro, bisogna stare attenti, bisogna dire subito che l'arbitro fa qualcosa di assurdo Gli arriva il pallone all'osso, bravo, è atletico! Ma guarda l'arbitro, è continuo, è fuori dallo stadio! Scusa, va fino ai spogliatoi! Lo tiravano da dietro, si è impallato come al solito Al numero 4 c'è Fletcher che non è il giocatore del Manchester, non è neanche la signora Fletcher Esatto! Non è la signora in giallo? Beh, scusa ma che tiro insulso! Eh, beh, è facile per il portiere Guardate, attenzione, il portiere rinvia colpo di testa irresistibile! Eh, tunnel! Eh, tunnel! Ma guarda come esulta! Quando uno deve farla! Doveva fargli vedere il culo però, secondo me Eh, ma guarda che c'è, io non esulterei neanche Io fossi il giocatore, avrei messo giù il joystick, avrei chiesto scusa a quell'altro Il joystick, il joypad Il joypad Numero 3 Comunque gran parata del portiere sul primo tiro Al numero 3 c'è Itz, guarda il tiro attraverso, attenzione Che stiga! Da lì non può sbagliare! Eh, ma che stiga! Ancora! Niente! Adesso, ancora! Fuori! Viva il legno, viva! Doveva uscire sta palla perché era proprio scritto Insomma, guardate, questo è una clip di Pesce in teoria, non di FIFA Guardate Di Pesce? Di Pesce, guardate, col Milan, guarda il tiro anche C'è tutto un palo, una ribattuta, alla fine la pallava fuori Eh, vabbè, non voleva entrare La porta era stregata Ci può stare, ci può stare Numero 2 Al numero 2 troviamo Tom E guarda il portiere, attenzione, la para Poi si tuffa, si rondola Dentro, no Doveva andare da qualche parte? Si rondola, si rotola, ragazzi, guardate Sì, ho sbagliato Si impaffina Eh, esatto, guarda Eh, ma c'è la neve per quello Tu aspetta un attimo, io capisco che c'è la neve però Guarda che fa le pirouette Guarda quando fanno le simulazioni Guarda, butta la palla dentro Guarda quando fanno le simulazioni che girano Eh, colui voleva fare lo stesso Eh, non si è accorto che c'era la rete Solo che È un portiere, non si è accorto che entrava dentro il posto Mamma mia, comunque c'è un portiere così da espellere No, no, è neanche da far entrare Attenzione, al numero 1 c'è guarda te Il portiere che la para poi È incommentabile Che cazzo è sta roba? Non so come dire E niente Vole importa Vabbè ragazzi Continuate a inviarci le vostre clip Continuate a iscrivervi al nostro canale E alla prossima, ci vediamo Vandy Ciao a tutti